Indubbiamente questo gesto rappresenta un simbolo di quello che stanno vivendo in questo momento i giovani come disagio. È chiaro che azioni di microvandalismo sono sempre state presenti per determinate fasce di età e rappresentano appunto un segnale anche di un atteggiamento, un po' di rivolta e di sfida dei giovani. In questo periodo con la crisi del Covid e quindi con la mancanza di tutte quelle che sono le attività associative dei giovani, quindi la mancanza anche da parte loro di avere una possibilità in qualche modo di non isolarsi ma di maniera a contatto con gli altri, partecipare a delle attività anche concrete, chiaramente tutto questo ha acuito questo disagio che può essere presente. Quindi noi lo consideriamo come un atto anche come un segnale per quello che può essere appunto la situazione che stanno vivendo i giovani oggi e ci siamo attivati così come abbiamo fatto sempre in passato ma in modo particolare anche legato a queste nuove forme appunto di isolamento che possono vivere i giovani, ci siamo attivati per poter potenziare tutte quelle che sono le attività di aggregazione, chiaramente con i limiti imposti dalla pandemia che stiamo vivendo, quindi legate alla Covid e quindi al blocco di quelle che sono le attività da fare di solito insieme come fanno i giovani. Noi, come ho avuto anche modo di dire altre volte, abbiamo comunque un territorio molto ricco di associazioni sportive, di attività sportive, attività culturali, anche gestite in funzione dei giovani e dai giovani stessi. Quindi stiamo cercando come amministrazione, insieme a tutte quelle che sono le associazioni di volontariato, le parrocchie, l'ambito sociale, di mettere in atto anche delle attività che in qualche modo possano da una parte togliere i giovani dall'isolamento e soprattutto per quelle fasce di età che sono più chiuse in casa e che sono più legate agli strumenti informatici e quindi con una socializzazione dal mio punto di vista poco reale, poco concreta, anche se appunto per i giovani sta diventando quasi la norma. E dall'altra parte stiamo cercando appunto di andare incontro invece a quelli che possono essere problemi legati a una situazione più di disagio con dei risvolti anche appunto legati a atti di vandalismo che possono sfociare anche in atti di violenza vera. Quindi in qualche modo cercare di isolare questi piccoli gruppi e di non far coinvolgere gli altri giovani e soprattutto anche di cercare di limitare la diffusione, la diffusione di questo tipo di attività qui. Ma qui c'è bisogno di un polo per la sicurezza di una caserma, di una struttura dove ci sono non solo i carabinieri che stanno facendo un lavoro egregio che noi ringraziamo ma anche la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza come in una città che ha 50.000 abitanti perché 50.000 ruotano attorno alla Piazza della Repubblica del Montecchio. Anzi ce ne sono altri 50.000 fluttuanti che vengono a lavorare da tutta la provincia, anche dalla provincia di Rimini e che portano benessere ma portano anche problemi. Poi questa è un'area molto ricca, molto appetibile anche alla malavita organizzata e quindi c'è bisogno, appena ci sarà il nuovo governo, inizieremo ad interloquire con il Ministro degli Interni perché questo è il problema di futuro. C'è bisogno anche di una caderma adeguata dei carabinieri attuali perché convivono uomini e donne dell'arma dei carabinieri e in una promiscuità che c'è bisogno di una risposta anche su questo.